Cari amici, cari concittadini di Itaxarf, una volta affrascati, siamo su Via della Cavona, la strada di periferia che porta dal quartiere di Vermicino verso la Anagnina. Ecco qui, questa è la situazione ambientale di questa strada. Ora, io denuncio questo Stato da 5-6 mesi, c'è da dire che i responsabili di questa situazione sono gli ignoranti ed incivili che percorrono questa strada. Però, ora che ci si avvia a quel grande progetto che è il DTT, che vedrà la nostra città essere capofila di un insediamento scientifico di livello mondiale, ditemi voi se le nostre arterie stradali che conducono all'ESA, all'ENEA, ai laboratori dell'INFN possano stare in queste condizioni. Ora, ripeto, io sono 5-6 mesi che segnalo questa situazione. Eppure, nonostante ci sia un assessorello preposto alla cura dell'ambiente, ai Taxarf, nulla è cambiato. Ora, qui è un lavoro di una mezz'oretta, no? Si tratta di passare con una spazzatrice, un operatore che racimola, ammucchia tutta questa munnezza, questo simbolo della nostra inciviltà, e la spazzatrice pulisce tutto. Ma, io non so cosa osti affinché l'assessorello prenda una misura in tal senso. E non si rende conto sto signore, oltre alla brutta figura che ci facciamo, che, insomma, come dire, in francese, sputtana anche chi l'ha nominato. Giombetta! Giombetta! Fatte in giro da ste parti! Lassa perdere i gatti da via del castello! Giombetta! Giombetta!